Corriamo e navighiamo oltre la disabilità. È lo slogan della prima edizione di Run for Fun, una corsa solidale non competitiva di circa 5 km che si è svolta lungo la battiglia di Ostia, dalla Lega Navale al Pontile e Ritorno. Contestualmente alla corsa è stata data la possibilità a persone con disabilità di provare l'esperienza di un'uscita in barca a vela condotta da esperti struttori della Lega Navale. Sulla scia di Swim for Fun abbiamo voluto riprendere il discorso legato alla fruibilità delle numerose possibilità che il nostro territorio offre, ha dichiarato il presidente di Terra Mare Emiliano Mignani. Dopo aver raggiunto l'obiettivo con l'acquisto di due sedie job, questa volta abbiamo pensato che una corsa sulle nostre spiagge potesse essere la buona occasione per raccogliere fondi utili alla creazione di spazi e strutture che siano sempre più inclusive. Anche questa volta, conclude Mignani, la Lega Navale italiana sezione di Ostia Lido, grazie alla disponibilità della presidente Carola De Fazio e del direttivo, ha accolto la nostra iniziativa rilanciandola con la proposta di dare a persone diversamente abili la possibilità di avvicinarsi al mondo della vela. Grazie a tutti.